Storia d'amore di Flavio Cattaneo e Sabrina Frilli Flavio Cattaneo e Sabrina Frilli sono una coppia che ha legato i loro destini sin dal 2011, quando hanno deciso di unirsi in matrimonio. L'attrice romana, nota per la sua bravura sul grande schermo, ha condiviso la sua vita con il manager e imprenditore Flavio Cattaneo, un uomo il cui nome risuona nell'ambito dell'imprenditoria italiana. Tuttavia, prima di incontrare Cattaneo, Frilli aveva già sperimentato le acque del matrimonio con Andrea Perone, con il quale ha condiviso un breve periodo di vita coniugale dal 2003 al 2005. La scelta di Flavio Cattaneo come compagno di vita ha portato Frilli a intraprendere un nuovo capitolo nella sua storia affettiva. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attrice ha condiviso il suo punto di vista sulle relazioni, sottolineando la sua fiducia nelle connessioni che si sviluppano in età più matura, quando si ha una maggiore consapevolezza di sé e dei propri desideri. Flavio Cattaneo, d'altra parte, ha una carriera impressionante alle spalle. Nato a Rau nel 1963, ha conseguito la laurea in architettura al Politecnico di Milano, successivamente specializzandosi in finanza applicata a real estate presso l'Università Bucconi. La sua esperienza nel mondo degli affari lo ha portato a ricoprire ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di amministratore delegato di Enel, una delle principali società energetiche al mondo. La coppia ha deciso di coronare il loro amore con un matrimonio segreto a Parigi nel 2011, mantenendo un profilo discreto sulla loro vita privata. Nonostante le voci e le speculazioni riguarda una presunta gravidanza di Ferilli, la coppia ha sempre negato tali indiscrezioni? Ferilli, che ha manifestato apertamente il desiderio di diventare madre, ha affrontato diverse difficoltà nel percorso verso la genitorialità, inclusa una tentata adozione nel 2005 che purtroppo non ha avuto esito positivo. Nonostante la mancanza di figli, la relazione tra Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli continua a prosperare, basata sulla riservatezza e sulla reciproca stima. La loro è una storia d'amore che ha resistito alle sfide del tempo, consolidando un legame che li rende una delle coppie più affiatate del panorama italiano.